Nella giornata mondiale degli oceani un'iniziativa che mette in primo piano la salvaguardia. Quale può essere il ruolo di imprese e ricerca per arrivare a questo fine? Noi con questa mostra che è stata organizzata da Ispra e che come distretto abbiamo inaugurato questa mattina qui nei locali del Museo Tecnico Navale della Spezia, che si chiama Plasticamente, intendiamo portare l'attenzione su un tema, visto che oggi è la giornata mondiale degli oceani, che è il tema della plastica che oggi viene riversata in mare a milioni di tonnellate in tutti gli oceani. È un'iniziativa che abbiamo deciso di inaugurare oggi nella giornata mondiale degli oceani che si protrarrà fino alla fine della mostra di Sea Future. È un'iniziativa collaterale e inserita nel programma di Sea Future proprio perché abbiamo voluto quest'anno che siamo tra gli organizzatori come distretto tecnologico di questa importante iniziativa, questa importante manifestazione, diversificarla molto non soltanto sui temi industriali che sono importanti ma anche sui temi della ricerca e in particolare sui temi dell'ambiente. Qual è il valore di trasmettere la conoscenza scientifica e anche la sensibilità ambientale a questi ragazzi? Allora è un valore assolutamente inestimabile. Quindi con questa mostra che è stata ideata da ISPRA, quindi dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, la sede di Chioggia, abbiamo avuto veramente l'opportunità di poter creare un piccolo assaggio di quello che dovrebbe essere poi una fonte di ispirazione per le giovani generazioni. La mostra, come abbiamo visto stamani, si compone di cinque pannelli che sono illustrati dai ragazzi dell'Istituto Superiore Cappellini Sauro e del Liceo Linguistico Mazzini che ci hanno proprio seguito in questa avventura. L'idea è proprio quella di promuovere in tutti i modi quelle che sono le famose 5R, quindi ricicla, riusa, riutilizza, ripensa, racconta, perché poi anche il racconto è importante. Queste giovani generazioni devono ascoltare il nostro racconto e riuscire a capire anche come pensare un loro futuro per poter cercare di ridurre non soltanto la plastica, ma anche pensare di nuovi materiali che siano effettivamente biodegradabili. Quali sono le principali conseguenze negative di questa iperproduzione di plastica nell'ambiente? Allora, la plastica è nata, diciamo, proprio come la panacea per tutti i mali. Il problema è che la plastica ha un utilizzo molto piccolo e poi dura per tantissimi anni. Il problema è che dura per tantissimi anni, non si degrada, non entra a far parte del nostro corpo come entra, esce e quindi può provocare soffocamento, intossicazioni, ma non soltanto negli animali, perché è una cosa palese, noi vediamo tutti i giorni e dappertutto, ma può causare anche ovviamente dei problemi. Nel 2050 è previsto che ci sarà più plastica che pesce in mare. La stiamo già mangiando questa plastica.